No, però si vede, la maglietta termica sotto è brutta Quanti cazzo Questo non è un video sponsorizzazione Siamo qui, tornati a un nuovo Vlogmas E oggi siamo qui per gustare tutte le Arizona che esistono Guardate quanti, abbiamo comprato tutte quante le Arizona ragazzi che ci sono in poche parole Abbiamo, abbiamo Oh che palle, oh mamma mia ogni volta mi avevi evidenziato sta cosa Sì Allora, io devo dire che ho molta sete E questo non è un video sponsor all'Arizona anche perché semplicemente mi piace tantissimo questa bevanda E la voglio bere Posso tranquillamente dire che l'Arizona fa cagare così avete la prova che questo non è un video sponsor Allora, Valeria, da quale vuole iniziare? Alla, aisti, witte pesca, witte pesca Witte pesca Allora, invece io intanto mi bevo quella al limone Così gliela rubo E lei signora quale vuole? No, vale Quella al limone Io voglio vedere all'angoria Un gremlin Allora, l'odore di queste cose è buonissimo Guardate questo Sì Donna, apri questo buono T'ha fatto Non lo so, ha riso Con te non si può fare un video serio, via Quella al limone è buono Però è troppo aspro Che può essere? Raga, questo qua è buonissimo Ma non sa di anguria Questo è troppo aspro Buono al limone Questo non sa di anguria Raga, fino al mo' quello al limone è il più buono Ma quello al limone è tipo orribile Ma è buono È tipo Powerade, cioè come si chiama Ok Quella alla pesca è buono Anche quella al limone Valerio, sento Valerio 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 Io non ho commenti Valerio Ma non stai scherzando Valerio Io non ho commenti C'hai 19 anni Non le faccio io queste cose 15 Ma guarda che stai Ho fatto un lago Sul pacchetto Ragazzi Io non ho commenti Ma che ti ho fatto un rito È infanzi Non è che ti sei messo Ma che hai fatto? Non hai fatto niente Io ho sentito La stava guardata Io l'ho guardata L'ho guardata La stava Così Appunto Io dico che Allora Quello alla pesca Gli do un 8 Quello al limone Gli do un 4 Ma quello al limone alla fine Non mi è piaciuto Manca a me Anche perché l'ho sputato All'anguria Non so di anguria Però l'anguria è buono Però non è anguria Ora andiamo con i prossimi Io mi prendo questo Che ha È Blueberry Come fanno le fashion blogger Questo ragazzi È il nostro Tè Il mio fruit punch Cowboy cocktail Vabbè Non mi è piaciuto C'è il ritore del vino Sto coso No regà Questo qua fa schifo No no Fa schifo pure qui Questo qua non è male Però Manco questo No però Questo fare uva più Manco questo Questo l'hai assaggiato Che fantastico Che è strawberry E' vero Questa è la cosa Da bocca secca Questo è buono Al mirtillo e pera E' buono Allora Mirtillo e pera Gli do un altro 8 Si pure io Un bel A quello Questo qui ragazzi Con limone e fragole Te lascia proprio la bocca secca E un altro 4 Questo qua pure Non è buono No questo qua Gli do un 6 Mi è piaciuto No Ma è buona dei mirtilli Questo ragazzi Io già l'ho assaggiato Che credo che sia il più buono Di tutti Infatti io Quelli che preferisco Per adesso So questo E questo qui Insieme a quello Alla pesca Perché sono proprio Quelli più buoni E poi c'è stato questo qua Che è al mango 10 minuti per se posso bevare Questo qua Tè verde con miele È mango Questo è bello In assoluto So il tè verde Per primo I miei sono sti due Anguria Mango e papasca Mango e il tè verde Sono più buoni Regà Questo e ci devo aggiungere Anche quello alla pesca Perché pure quella alla pesca È buona Quella alla pesca È buona Questa è la mia classifica Allora primo posto Questo qua Il mango Secondo posto E il terzo posto Questo qua Non ci arrivo Allora primo mango Secondo questo No Questo Anguria Secondo anguria Regà il limone Non lo sta buttando Il terzo Il limone Questo Ma come Siamo giusti al termine Del nostro Christmas No Non è che Christmas Christmas Vlogmas Vlogmas Del nostro vlogmas Tornaliero Regà Speramente non c'ho più sede Anche per cosa C'è le sue cose buone Le sue cose sì Vabbè grazie Siamo bevuti tipo Mezzo litro di roba Comunque Niente Io Vi saluto Ringrazio Forza L'Arizona E abbassa Il tè Ciao ragazzi Al prossimo video Ciao Ciao